...di aspetto educato, si è disvegliato nel percolato, iaculato. A toni tu hai esclamato come è che sin svegliato, iaculato, nel percolato sarà stata quella stronza di melito che l'altra sera al club mi ha dato il ben servito. Una passante nauseata chiede a Penert, ragazzo che spacci mai combinato tu fra mezz'ora? Fra mezz'ora devi essere interrogato, la professoressa Luffardini ha raccolto anche il danaro per il tuo regalo. Spazio di compleanno, su via, raggiungi in presidenza la mamma di Samenta, la ragazza che per tramenta si è sequestrata alla Gementa. Penert, te lo ribadisco, qui non sei a San Francisco, qui sei alla scuola media Romaldiffo, rinomata per il suo rigore con... ...suo rigore, non puoi presentarti, iaculato, al cospetto della Luffardini. Fai una cosa, fatti dare dei tovaiual dal Fido Bidello Ornello e domani, come punizione portata a 18, frolle in direzione.